Musica Qui, per Gigi Dors, abbiamo sviluppato un vero e proprio shooting diffuso. Abbiamo bisogno di un intervento fotografico in grado di poter rappresentare i loro prodotti in forma globale. Pertanto, abbiamo organizzato un servizio che ha concentrato gli sforzi in una direzione rappresentativa uniformata, ovvero in quadrature nette, precise, semplici, ma sempre aventi scenografie abili a ricreare l'ideologia funzionale che il cliente potenziale si aspetta di ricevere da dei prodotti logistici come quelli effetti da Gigi Dors. Quindi, gamba in spalla, abbiamo organizzato diverse tappe in Italia per poter raggiungere i cantieri più recenti e quelli di maggior spicco, per poter portare a casa un mezzo marketing che potesse servire sia al team degli SMM che al nostro dipartimento web. Grazie a tutti.